Noi siamo tornati a cercarla proprio perché da tempo, da anni, lei si occupa della trasmissione di malattie che possono arrivare attraverso il contatto con gli animali, quando l'animale diventa vettore. Lei è responsabile del laboratorio Carni in Italia, ha lavorato moltissimo nel periodo dell'epidemia mucca pazza, cioè di questo allarme che aveva creato moltissima panica, moltissima preoccupazione. Allora, concentriamoci su questo. Una nuova preoccupazione che torna a riguardarci in qualche modo è questo aumento della temperatura terrestre che favorisce il proliferare di alcuni virus che potrebbero essere proprio trasmessi dagli animali. Allora, come lavorate in questo senso e che cosa accade davvero? Quali sono i rischi che noi corriamo? Sì, va detto prima di tutto che le malattie infettive emergenti, cioè quelle che o sono comparse con grande incidenza o che di colpo o che dilagano in ampie aree geografiche, sono in gran parte legate agli animali. Per questo noi ce ne occupiamo così a fondo, per questo l'Europa è così preoccupata, cioè tra il 60 e il 70% delle malattie infettive nuove, quelle che preoccupano tutto il globo, appunto questa grande percentuale è legata agli animali, o per un contatto diretto con gli animali o per l'assunzione di alimenti di origine animale. Quindi gli animali rappresentano un veicolo importante e parlo soprattutto degli animali selvatici, cioè cosa preoccupa chi si occupa anche di sicurezza alimentare in tutto il mondo, è proprio la possibilità che animali selvatici veicolino malattie nuove da un punto all'altro del globo, cioè siamo ormai un'epoca in cui una malattia che scoppia, una malattia emergente che scoppia una parte molto lontana del mondo può arrivare immediatamente. Facciamo un esempio? Tanti, ad esempio quelli legati proprio ai cambiamenti climatici, cioè un gruppo di malattie legate ai cambiamenti climatici è quelle veicolate, quelle malattie veicolate, cioè portate da insetti, moscerini, zanzare, zecca, soprattutto insetti esotici che arrivano da temperature, da climi, da ambienti molto lontani da noi che una volta non potevano sopravvivere. Noi troviamo zanzare, zanzare esotiche, troviamo zanzare della Corea, dell'Egitto, cioè di posti molto lontani che una volta con le temperature un po' più basse non avevano tempo di replicarsi, di fare uova. Quindi mi scusi, l'alzamento della temperatura, quindi questo cambiamento climatico agisce, è una condizione favorevole all'animale o al virus che l'animale trasporta? A tutte e due forse? Sì, tra l'altro non parliamo solo di virus, parliamo di batteri, parliamo anche di parassiti, parliamo di tanti agenti di malattia che vengono favoriti dall'aumento della temperatura. Ad esempio le parassitosi nei pesci, anche nei laghi d'acqua dolce o nel mare sono favorite dall'aumento delle temperature. Anche altre emergenze come quelle delle biotossine algali, c'è altre patologie non strettamente connesse a virus, sono favorite dall'aumento delle temperature dei mari. Quindi questo cambiamento globale cambia le abitudini e le diffusioni di vettori, le chiamiamo di veicoli di malattie. Gli vettori sono gli animali.